L'italianità la vedo da fuori. Secondo me quello che noi abbiamo, il nostro know-how e quello che ci contraddistingue è proprio il nostro concetto di italianità, cioè quello che gli altri conoscono di noi. Cioè un piccolo paese che è all'apice in qualsiasi cosa esso faccia. Il rituale che mi concedono ogni giorno, al quale non potrei mai rinunciare, essendo io goloso, è il cappuccino e il brioche nel mio bar prefetto. Allora, per me il concetto di italianità è fondamentale perché è alla base della nostra cultura, è quello per cui noi siamo senza dubbio riconosciuti nel mondo per creatori di idee. Gli artisti italiani sono veramente molto, molto interessanti perché riescono a portare quel qualcosa in più che hanno veramente solo loro. Io faccio nel mio lavoro tantissimi appuntamenti, è un lavoro molto dinamico, quindi spesso vesto abbastanza elegante e per smorzare uso una bretella, che porto molto spesso e che mi piace, oppure il mio pallino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.